Hai consegnato anche dei documenti al comandante? Sì, ho consegnato il testo della risoluzione approvata all'anonimità dal Consiglio regionale della Lombardia a dimostrazione che non tutti i politici sono sordi alle problematiche della detenzione e il Consiglio regionale della Lombardia ha dimostrato di essere attento e sensibile soprattutto per quello che riguarda la riforma dell'ordinamento penitenziario ancora ottenibile grazie anche all'impegno dei consigli regionali che sono i politici più vicini ai problemi delle carceri e ai problemi dei detenuti e che vogliono salvare tutto l'importante lavoro fatto dagli stati generali sull'esecuzione penitenziaria e dunque anche l'iniziativa perché tutti i consigli regionali siano messi in condizione di approvare, se lo ritengono chiaramente, dei testi analoghi possano farlo. Io per questo ho mandato il materiale a molti compagni radicali in giro per l'Italia e attendo delle risposte puntuali. Andremo sicuramente a sollecitarli, eh Luca? Certo. Va bene, ti ringrazio molto di essere stato compagno di visita radicale. Oh, ce l'abbiamo... In marcia di Pasqua poi. E poi abbiamo ricordato anche a tutti, sia ai detenenti e soprattutto ai detenuti, della nostra iniziativa della prossima Pasqua, quindi quando praticamente marceremo... E tutti i detenuti definitivi erano pronti a uscire con noi per recarsi alla marcia di Pasqua. Certo, sì, c'era solo un piccolo impedimento ma potevamo sorvelare. Grazie.